Sembra incredibile, ma devo dirlo, sembra quasi che l'assessore ai lavori pubblici e i dirigenti ai lavori pubblici del comune di Taranto si siano quasi accaniti, tra virgolette lo dico, nei confronti degli abitanti dei Tamburi. Ma cos'è dobbiamo rendere la vita impossibile? Vi spiego perché, ci troviamo al quartiere Tamburi, come detto, precisamente in via Manzoni. Guardate cosa hanno fatto, riqualificazione del manto stradale, dei marciapiedi, guardate qui, dei marciapiedi enormi, molto ma molto grandi, guardate come sono ampi, marciapiede da un lato, marciapiede dall'altro e carreggiata, molto ma molto stretta, angusta, passa sì e no una macchina, ma non solo. Dove devono parcheggiare gli abitanti? Perché almeno uno dei due lati riservati ai marciapiedi fosse stato, come dire, riservato per il parcheggio delle auto. Ditemi di grazia dove devono parcheggiare, specialmente nei giorni di festa, quando vengono i familiari, vengono i parenti. Qui non puoi parcheggiare perché c'è il marciapiede. Qui c'è la carreggiata, molto stretta, come detto, qui c'è l'altro marciapiede. Melucci, Mattia Giorno, dirigente dei lavori pubblici, dove parcheggiamo la macchina? Se il nipote, il figliolo, va a trovare la signora Maria, dove parcheggia? A casa tua, Mattia Giorno? A casa tua, dirigente dei lavori pubblici? A casa tua, sindaco Melucci? No, vabbè, poi a casa tua no, perché sennò devono andare a sbattere fino a Crispiano, che tu là sei residente. Ma al di là della battuta, è normale? E allora molte macchine, ovviamente la cosa è da condannare, ma molte macchine purtroppo, e le capisco, non le giustifico ma le capisco, molti automobilisti sono costretti a parcheggiare le auto sui marciapiedi, esasperati, cosa che non si dovrebbe fare, che non va fatta, ma che voi state di fatto inducendo, costringendo a fare. Questo è l'assurdo, quando poi non c'era nessuna necessità di fare dei marciapiedi giganti, cosa facciamo? Guardate là, guardate, cosa facciamo? D'estate mettiamo le sedie a sdraio e mettiamo gli ombrelloni per prendere il sole e le macchine poi dove le parcheggiamo? Cioè proprio significa non avere logica, non ragionare, non ragionare, perché quando si prende una decisione, quando si fanno dei lavori ci deve essere una logica ispiratrice, ma una logica che produca risultati utili per la collettività, non disastrosi. Guardate, guardate qui, io non so più cosa dire, dove devono parcheggiare le auto? Dove? Dove? Questa è la smart city, questa città smart, intelligente, alla faccia del bicarbonato di sodio, per non dire qualche altra parola volgare. Mi mantengo qui, guardate, guardate, ecco come si fanno i lavori pubblici a Tarno, guardate, io vi tirerei le orecchie in senso metaforico fino a staccarvele, caro dirigente e caro assessore, sempre in senso metaforico, massimo rispetto per voi, per la vostra onestà, per la vostra professionalità, però io certe assurdità non le posso tollerare, veramente proprio fanno a cazzotti con il buon senso e con la logica. Grazie.